Torrera prepara ed effetto al lancio per Quagliarella, la sponda, Sapata! Duvan Sapata, 11 minuti del secondo tempo, la Samp è in vantaggio, Sampdoria 1, Lazio 0, dopo il palo di Parolo. Il gol della Lazio è arrivato. Che azione elaborata, lunga ma vincente della Samp e che gol. Il gol corale, voluto, cercato dalla squadra di Giampaolo, che qua controlla con Torrera. Lancio dentro per Quagliarella, saggiamente anticipa Defray e va a servire la sponda per Duvan Sapata. Gol facile per lui, che nasce però da lontano. Controllo e destro, è battuto Stracoscia. Gol che almeno al 50% di Fabio Quagliarella.